Mancano ancora tre anni alla conclusione dell'esperienza del POR Sicilia. Tre anni di tempo e un grande flusso di danaro messo a disposizione dei siciliani dall'Unione Europea nell'intento di favorire il più possibile la crescita dell'economia dell'isola. Ingenti fondi dunque da utilizzare al meglio in un'occasione certamente irripetibile. Lo scorso anno la Sicilia è riuscita ad ottimizzare la spesa, al punto di aver ottenuto dall'Unione Europea perfino una premialità, cioè dei fondi supplementari proporzionali alle spese effettuate. Il consuntivo parziale per l'anno in corso invece appare un po' diverso. Dei 7 miliardi e 600 mila euro messi a disposizione è stato impegnato circa il 47% e di questo soltanto una parte è stata realmente spesa per la realizzazione dei progetti. Assessore Cimino, dai fondi POR impegnati la Regione ha speso finora soltanto il 46%, come mai? Io direi non soltanto il 46%, ha di fatto raggiunto oggi la quota del 46% ma noi stiamo cercando di certificare le varie iniziative, sicuramente vi sono stati dei ritardi dovuti anche a dei ricorsi presentati nell'autorità giudiziaria e stiamo cercando in tutti i modi di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefistati. Ritengo che in questi anni il Dipartimento Programmazione ha dato il massimo, i risultati li stiamo raggiungendo proprio perché la nostra Regione ha avuto grande credibilità e autorevolezza nel panorama europeo e con la nuova modifica del Complemento di Programmazione stiamo cercando proprio di accorpare le diverse misure per accelerare ancora maggiormente la spesa e dare forti segnali al territorio e alle attività produttive. Dunque lei non è pessimista? No, non ci sono seri problemi proprio perché abbiamo lavorato bene, il Governo è stato fortemente presente nelle diverse interlocuzioni anche con il Governo nazionale e con la comunità europea e posso rappresentare come anche dalle riunioni con i diversi dirigenti generali i risultati da qui a breve si vedranno perché alcune risorse non sono state spese, non sono state certificate per riuscire a mantenere sempre alto il criterio della trasparenza e quindi soprattutto quello del rispetto di alcune procedure che purtroppo in Sicilia sono delle procedure a volte anche lente. Una soluzione innovativa potrebbe essere rappresentata dall'ipotesi di dare la precedenza nei finanziamenti ai progetti proposti dalle macro aree, cioè da zone geograficamente ampie dell'isola legate da modelli di sviluppo complementari? Ma in questi anni si è lavorato proprio seguendo questo obiettivo, l'obiettivo di valorizzare i distretti produttivi, i distretti industriali. Ricordiamo che l'idea dei patti territoriali o dei piani integrati territoriali è quella di volere non più rappresentare il finanziamento a pioggia con una singola impresa ma bensì riuscire a finanziare una pianificazione territoriale che rappresenta un settore dell'economia della nostra regione. Ricordiamo i patti agricoli, i patti turistici e così anche i diversi piani integrati territoriali che si collegano proprio all'abbandono dell'idea del finanziamento a pioggia per recuperare il finanziamento integrato. Così noi stiamo già di fatto lavorando a dei nuovi bandi che sono quelli indispensabili nel nostro territorio per la rivitalizzazione delle città, i nuovi accordi di programma quadro cercando sempre la giusta interlocuzione e rappresentazione con le realtà locali.